Ben trovati con questo nuovo contenuto di Green Soul, il podcast al Telefono Con riprende con nuove interviste, nuove chiacchierate con i professionisti della carrozzeria e del detailing. L'ospite di oggi è Giuseppe Giuliano. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui. Ciao, ciao a tutti, ben trovati. Che tempo hai da quelle parti? Fa caldo perché qui fa molto caldo. Sta cominciando, sta cominciando. Sta arrivando l'estate. Perché se il cielo non è del tutto limpido, ma sta cominciando ad aprirsi. Beh, ti ho chiesto com'è il clima, però di dove sei Giuseppe? Io di Palermo. Perfetto, quindi Sicilia. Allora, parto subito con la prima domanda. Dimmi, dimmi, scusami. Nord Africa. No, no, va bene. Allora, parto subito con la prima domanda che faccio normalmente agli ospiti di questo podcast. Quindi, chi è Giuseppe Giuliano? Ma chi è Giuseppe Giuliano? Giuseppe Giuliano è un umile imprenditore che ha avuto circa 8-10 anni fa la lungimiranza di intravedere un lavoro innovativo e di passione e per necessità virtù ha iniziato questo tipo di lavoro. E stiamo parlando di quale lavoro? Detailer. Quindi, detailer. Sì, sì. Beh, oggi l'argomento è abbastanza interessante perché ci sono delle domande che vorrò farti circa questo tema. Allora, dato che sei della Sicilia, mi viene in mente una domanda. Quindi, sud Italia, tu hai parlato di Nord Africa, io dico sud Italia, ma giusto per restare in ambito italiano. La domanda è questa. Come vedi il mercato del detailing e anche lavaggio auto, insomma, se c'è differenza tra Nord e Sud, se tu riesci a percepire questa differenza qui? Io l'ho sempre sostenuto che esistono tre Italia per quanto riguarda questo tipo di lavoro, ma tutto è subordinato proprio dal punto di vista economico e sociale, perché è anche logistica, specialmente noi qui in Sicilia che siamo un'isola, abbiamo delle peculiarità locali che non ci consentono anche dal punto di vista di formazione, di innovazione, di essere ben vicini al resto d'Italia per fare aggregazione e condivisione su determinate tecniche. Quindi ti senti un po' lontano da quella che è la realtà? Siamo lontani e non solo lontani, come dicevo in premessa, abbiamo delle problematiche economiche e sociali, che la nostra clientela non è tanta ben disposta a pagare determinati servizi, allora ci dobbiamo inventare una soluzione. Noi siamo stati i primi in Sicilia ad inventarci delle soluzioni per farsi avvicinare la clientela a questa novità, a questa nuova tipologia di lavorazioni e a questi risultati. Quando parli di novità, che cosa ha? Allora, tieni conto che il detailing, come tu ben sai, nasce 50 anni fa in America e poi ci sono stati in Italia circa 15-20 anni. All'epoca il detailing era concentrato solo esclusivamente sulla lucidatura, ma devo dirti, e me ne prendo i meriti, che il sottoscritto proprio per seguire l'obiettivo di avvicinare la clientela a certi tipi di lavori, si è inventato nel lontano 2015 vari pacchetti di lavorazioni, lavaggi accurati, lavaggi di mantenimento, lucidature interni, eccetera, eccetera, per soddisfare quelli che sono i bisogni degli appassionati e dei cittadini. Quindi come un sarto di tutto punto hai costruito qualcosa che potesse essere innanzitutto utile alla tua clientela, ma che allo stesso tempo davi… No, ma ha fatto una bella combinazione, perché se tu chiedevi 15 anni fa o 10 anni fa un prezzo di un full detailing a un cliente, saltava in aria. La classica risposta era preferisco andarmi a riverniciare la macchina a posto di fare tutti questi lavori. Beh sì, l'ho sentita anche io questa… Assolutamente sì. Pertanto facendo vari tipi di pacchetti più abbordabili economicamente, il ragazzino e il detentore d'auto d'epoca o il detentore dei macchine di prestigio si avvicinava e facevamo un pacchetto oggi, un mese facciamo un pacchetto, l'altro mese ne facciamo un altro e veniva dal punto di vista economico più abbordabile. Quindi mi sembra di capire che comunque tu sei consapevole che quando si parla di detailing si parla di una serie di processi, ok? Certamente. Dal lavaggio iniziale all'ultima applicazione che si può fare sulla carrozzeria e sulla base di questa consapevolezza hai costruito qualcosa che, non dico che è detailing, no? Hai costruito qualcosa che possa essere vendibile, giusto? Certo, bisogna, ho sempre sostenuto io che bisogna conciliare l'aspetto tecnico con l'aspetto commerciale. Cioè un vero detailer deve avere tutte e due le caratteristiche. Molte volte l'artigiano, il tecnico non è tanto pronto ad affrontare alla vendita del servizio perché si concentra sul lavoro che deve fare e non vede oltre. Ma per fare bene il detailer bisogna avere queste due caratteristiche. Deve sapere fare bene il lavoro e sapere vendere il proprio lavoro. Quindi ti lancio questa provocazione. Dato che qualche tempo fa parlavo con un tuo collega circa l'utilizzo di questo termine detailing che molto spesso è stato usato e abusato per una questione puramente commerciale. A questo punto perché utilizzare questo termine dato che si eseguono comunque attività legate al lavaggista e al carrozziere? Cioè si usa questa parola perché si uniscono le due competenze, cioè quelle del lavaggista e quella del carrozziere? No, io più che altro sai è una moda. Si parla oggi oramai americanizzato. Ok, quindi si è voluto dare un termine, un nome. Mi ricordo i vecchi spazzini, che ora è un guai se li chiami spazzini, ma li chiamano operatori ecologici. Pertanto diciamo combinare una frase, un nome, diciamo che è più moda che peraltro, però quello che insisto dietro questa parola e la sottolineo è che per me è una vera e propria arte. Beh sì, certamente, comunque è un'attività manuale e come tutte le attività manuali dietro c'è un professionista. Per cui io credo, credo che chi fa questo lavoro, se non lo fa con amore e con passione, non fa questo lavoro. Per cui chi fa questo tipo di lavoro perché è un lavoro massacrante, abbia una marcia in più perché è innamorato del lavoro stesso. Guarda, mi hai fatto pensare a quest'altra domanda, dato che hai parlato di passione, lavoro, chi vuole fare questo lavoro? Manca mano d'opera nel tuo settore? Manca mano d'opera dovunque in questo momento. Certamente, come ti dicevo prima, il lavoro nostro è un lavoro massacrante, ma massacrante è sul serio. Chi ti parla soffre di epicondilite e ha delle spalle frantumate. Ma tu pensi sia un problema quello della mancanza della mano d'opera? Che si rifà un po' a questo lavoro faticoso oppure ci sono altre problematiche, altre situazioni? Nel caso nostro è un lavoro molto faticoso perché abbiamo provato tante persone, dopo una settimana scappano. scappano, anche perché c'è pure un problema culturale, Francesco. Il giovane, con tutto il rispetto, è più portato ai guadagni facili, ai guadagni meno faticosi. Tanto che quanti neofiti che iniziano a intraprendere questa strada del detailing dopo qualche mese che cominciano a vendersi macchinette eccetera perché non sono più in grado di poter sopportare questi ritmi e questi lavori. Sì, confermo quello che dici perché mi è capitato di vedere anche a me questi ragazzi che iniziano con tanto entusiasmo E poi scema E poi, sì, esatto, esatto. Forse magari sono un po' presi dalla comunicazione digitale La curiosità Sono curiosi, si avvicinano e poi il business è tutt'altra roba, cioè il mercato è tutt'altra roba. Il mercato è tutt'altra roba e tra l'altro chi ti parla proprio per gli anni che ha trascorso in questo mondo ci sono state varie fasi e siamo in piena evoluzione perché ti posso dire c'è la fase iniziale quando tu apri un'attività di detailing perché hai bisogno di visibilità e poi nel momento in cui sei conosciuto comincia un po' più col passaparola e la visibilità nei social viene meno perché probabilmente sei preso dal lavoro che non hai tempo per fare foto Sì, per creare dei contenuti, certo. Ci mancherebbe altro Poi devo dirti che il periodo del Covid ha creato anche dal punto di vista di sviluppo e ricerca degli stop in termini di innovazione per cui non facciamo altro che rivisitare prodotti già conosciuti e riconosciuti Chi ti parla è un creativo, tende sempre lo sviluppo e la ricerca e non ti nascondo che da un periodo di tempo a venire qua è tutto fermo Non c'è alcuna innovazione Sì, perché effettivamente io ti conosco già dopo un po', ti seguo su Facebook già da parecchio e ho visto che tu sei molto vicino a queste attività quindi lo sviluppo del prodotto, capire come poter utilizzare un prodotto al meglio ti ho visto abbastanza preso anche su queste faccende qui Chi ti parla proprio perché i capelli bianchi, non perché sono bravo ha fatto tutta la gavetta possibile immaginare per arrivare a una saturazione di conoscenza a 360 gradi di tutti i prodotti del mondo Ora è arrivata la fase della selezione, della sintesi e degli obiettivi Devo dirti, come dicevo prima, che il periodo del Covid ha messo un freno per quanto riguarda lo sviluppo delle case produttrici per cui non si fa altro che ribadire determinati concetti, determinati prodotti e determinate lavorazioni Spero che al più presto ci sia qualche novità, qualche innovazione che ci fa un po' eccitare ancora di più nell'espetamento del nostro lavoro A proposito di questo allora, ti faccio quest'ultima domanda visto che parlavi di sviluppo, di emozioni che mancano in questo settore parliamo di codice Ateco che cosa mi puoi dire in merito? Anche perché guarda, so che sei una persona anche un po' vicina ad ambienti politici perché ti ho visto abbastanza attivo sotto questo punto di vista Purtroppo, dico purtroppo, io ho tante passioni di cui anche questo Cioè quella della politica? Politica, sindacale, associazionismo, c'è tutto nel pentolone Che ti devo dire? Io intravedo nel nostro settore purtroppo, dico purtroppo, un'immaturità Molti sento ogni tanto che parlano di codice Ateco, di figura professionale, di riconoscimento eccetera eccetera Però quello che manca a tutti questi ragazzi, a tutti coloro che fanno parte del nostro settore è quella maturità dell'associazione Cioè cosa significa fare parte di un'associazione, creare aggregazione e crescita Certe volte ho intravisto determinate fughe in avanti di alcune associazioni che si soffermano solo su un aspetto Che è quello della formazione e quello del brand E perdono di vista le innumerevoli opportunità che uno strumento associativo può ricavare Può dare anche al professionista Al professionista Sì no, perché in Italia ce ne sono C'è qualche associazione Mi dispiace tantissimo Perché proprio siamo in un periodo di cambiamento Di disponibilità di fondi europei Di disponibilità da parte dei progetti e innovazioni E noi per immaturità siamo arroccati ancora sempre alla stessa minestra Che della formazione, del brand, del prodottino E perdiamo di vista tante ma tante di quelle opportunità Però scusami Giuseppe, parlavi di comunità europea E quindi di iniziative da parte della comunità europea L'innovazione, certo Quando si parla di innovazione No, voglio farti questa osservazione Barra domanda Poi decidi tu se come e se vuoi rispondere a questo Intanto tu hai un codice a teco Quindi in qualche modo sei riconosciuto E quindi comunque hai un'esistenza in Camera di Commercio Agli occhi delle autorità Che in qualche modo sei alla pari di qualche altro professionista Quindi nel caso in cui dovessero esserci delle iniziative Della comunità europea Ma anche dello Stato italiano Il tuo codice a teco La tua figura professionale In qualche modo rientra Così come il Io mi sembra di capire che tu abbia Il codice a teco dei lavaggisti Ecco, idem vale per chi Ha quello dei carrozzieri Cioè i due codici a teco Le due entità giuridiche Le due figure giuridiche Ci sono, esistono Ti interrompo Tu stai parlando su uno status quo Io invece sto andando oltre Qual è l'attività oggi più innovativa che possa esistere Se non quella del detailing? Ne hai sentito mai parlare di fondi PNRR sull'innovazione? Assolutamente sì, certo Il detailing che abbraccia, come ben detto tu Varie tipologie di lavorazioni Il lavaggio si vincola a determinate lavorazioni Il carrozziere forse è un pochettino più completo ad altri tipi di lavorazioni Questa figura che sta nel mezzo Può ottenere Può ottenere In base all'innovazione Anche con una bella sinergia delle case produttrici Quando innovano Macchinari, prodotti, eccetera Ottenere tante di quelle Di quei finanziamenti finalizzate Un'attività innovativa che tu neanche ne hai idea Sì ma La mia questione è questa Così come il detailer può avere determinate innovazioni Quindi strumenti e tante altre cose che riguardano l'innovazione Così la può avere il lavaggista Così la può avere il carrozziere Dal punto di vista giuridico intendo Poi lasciamo stare il discorso specifico dello strumento Quello è chiaro che poi No, quello che ti dico è il progetto Se tu devi fare un progetto sulla figura del detailer Non la puoi fare perché noi non esistiamo Ebbè sì, no, è certo Lì è una questione di riconoscimento più che altro Perché dal punto di vista economico, commerciale O la devi fare come lavaggista O come carrozzeria Esatto, esatto Ma poi sto parlando solo di finanziamenti Poi io ti posso allungare la lista delle opportunità Che so, a caldo mi viene in mente Una forma di associazionismo commerciale Sai, tempo fa Su quello, sulla disgrazia che è successa in Emilia Mi è venuto, mentre guardavo il telegiornale Mi è venuto l'idea Ma come mai non c'è un gruppo Non creiamo un gruppo di detailer Con tutte queste macchine allagate Di fare un bel gruppo E spostarci tutti in Emilia E aiutare questa povera gente Ma sai cosa? Molte auto Sai dove le ho viste? Dai carrozzieri Dai carrozzieri Non da lavaggista E perché devono smontare Eh, infatti Devono smontare Il detailer non può farlo Il lavaggista non può farlo Esatto Anche se Però Però Scusami per l'interruzione Una sorta di cooperazione Di collaborazione con il carrozziere Poteva anche esserci Si poteva sviluppare qualcosa insieme Non parlo ora a carattere nazionale Ma anche a carattere locale Molte volte Molte volte Francesco Si vede Tra le due figure Una certa rivalità Invece non deve esistere Siamo due Due risorse Due valori aggiunti Che servono Nel settore Automotive Per dare un servizio Eccellente E credi In Italia Abbiamo una manufattura Degli artisti Veri e propri Per cui Io sono sempre Per la condivisione E l'aggregazione Di tante figure Di tante figure Per cui Andare a creare Queste rivalità Queste polemiche Tra le due figure Professionali Bisogna portare Rispetto Rispetto Giuseppe Sulla base di queste Tue ultime parole Io ti ringrazio Per l'intervento Grazie per essere Stato con noi Quando è voglia Ci risentiamo Possiamo registrare Altri podcast Affrontare Altre questioni Perché ti ho visto Abbastanza afferrato Su alcuni argomenti Grazie a te Grazie a tutti voi Un abbraccio a tutti Ciao Ciao Giuseppe A presto Ciao